Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess e ben ritrovati qui sul mio canale! Non vi preoccupate, non mi sono svenduto Minecraft e neanche sto iniziando una serie in Minecraft ma sto semplicemente rispondendo alla challenge che mi ha fatto Marco88 di cui se mi ricordo vi lascio il link del video in descrizione Questa custom map si chiama Pandora's Box Challenge ed è basata sulla mod Pandora's Box che è una specie di Lucky Block, per chi conosce la Lucky Block Regole velocemente, impostare la difficoltà su Hard Non rompere i blocchi tranne per i Pandora's Box Se dei Pandora's Box vengono droppati, rimpiazzare i rompiti Se i Pandora's Box vengono distrutti, vai avanti Non usare cheater, resta sempre in survival Se stai giocando in multiplayer, aprite un Pandora's Box ciascuno Non uscite mai dalla strada, al libro delle più regole per gli YouTuber Sì, vabbè, queste sono le... Regole per chi sta facendo un video, rilascia nella descrizione del video la mappa Lascia nella descrizione del video il canale YouTube del creatore della mappa Che potete vedere qui Alla fine della challenge nomina da 1 a 5 YouTubers per fargli fare un video sulla mappa Questo vedrò, non ho tanta idea di chi nominare Perché le coppe le faccio poi solo con Marco 88 Quindi vedremo Una cosa... Questa credo che la violerò Non rompere i blocchi tranne per i Pandora's Box Perché, come potete immaginare, si buggerà un sacco Nel senso che ci sarà una situazione assurda E quindi Per cercare di passare e andare oltre dovrò rompere dei blocchi Ma iniziamo subito Vediamo quante morti ci saranno Io spero almeno possibile Cosa succede? Uh, dei fuochi d'artificio Ok Yeeey Sì, finendo che fai i fuochi d'artificio sono contento Vediamo che finisca così, non mi... Mi lagga tutto Perché se mi esplode... Oddio Credo fossero solo i fuochi d'artificio Son vivo? Son vivo Ha droppato di Pandora's Box No, però mi è sfasciato già l'ingresso Perfetto, spero di... Spero che non succeda qualcosa di grave Comunque Spero che non me ne abbia rompito nessun... Boh Non lo so Oddio, 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 oddio Questo ho finito Sto aggando a bestia Ragazzi, non capisco più niente Una morte Prima morte Questo libro lo butto via, perché? No, non mi piacciono questi scheletri che stanno... Guardate dove spawno adesso, sono... C'è un creeper No, 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 no È morto? Ma no, c'è lo scheletro da pezzente Prendi fuoco, prendi fuoco, prendi fuoco, prendi fuoco, sì Non mi avrà mai droppato l'arco Ecco, tipo qua... Posso salire senza rompere... Oh, sì, perfetto Così non ho violato la... La legge della... Termodinamica Tu esplodi, perfetto Un altro ce n'è, basta Non vi voglio più Non vi voglio più Stai là tu E quello tra l'altro mi ha esploso Ah no, l'ha sdroppato qua Ma ne sto perdendo la metà dei Pandora's Box qua Ma ce ne sono ancora un sacco di tizi qui in giro Salterò di sicuro in aria Bene, piazziamo questo e apriamo questo No, 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 no Sì Non ci credo ragazzi, sono sopravvissuto Quella line in realtà era la trappola in cui ti ritrovi bloccato nel vetro con dell'acqua E... e muori affogato E per fortuna visto che era esploso tutto sono riuscito a uscire Ehm... no, qua devo piazzare per forza i blocchi Se no non passo Quindi so... credo che tra l'altro ci sia un blocco là in me... C'era un blocco là in mezzo? Non lo so, io credo di sì Ne sto saltando tipo tantissimi, credo C'era un blocco tipo da queste parti Un Pandora's Box Guardiamo rapidamente Ehm... no, non ce n'è Usciamo veloce prima di affogare Ok Perfetto Oddio Uno scheletto Ehm... un osso Ehm... apriamolo Oddio, 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 oddio No, 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 no zio come l'ho preso quando la via la lava che l'aggo come lo schifo porca pupazza cosa sta succedendo vai nell'acqua come vado adesso a recuperare col pandora sbox la dobbiamo fare i pro adesso eh adesso riesco a piazzare un blocco là sopra no eh dobbiamo rischiarcela non ci arrivo non ci arrivo riesco a piazzare un blocco ok uno l'ho chiuso dovrei no non l'ho chiuso via via c'era un pandora sbox dall'altra parte dio l'ho aperto ha preso fuoco dei gatti sì viva i gatti kaiser riesco a salire ma porca pupazza ma anche tu qua via muori è colpa del gatto uso la freccia perché io posso della serie so chi può e chi non può e io può oh sì vengo ad abbracciarti mio amico creeper vieni qui vieni ad abbracciarmi vieni ad abbracciarmi che tanto non fai grandi danni ahhh ci sono i gatti i creeper hanno paura dei gatti lol grazie gatti no vi voglio bene stavo scherzando prima in realtà vi amo tantissimo ma eccolo qua il pandora sbox puzzone cosa succede adesso cosa succede cosa succedendo niente non è successo niente oh dio ma cos'è sta roba che salite là sopra cioè ma ragazzi cioè io ho aperto tipo due pandora sbox e guardate già la mappa che fine ha fatto no sta morendo un gatto sfogato l'avete sentito anche voi allora vediamo se sì non posso rompere i blocchi della mappa ma questo è un blocco copiazzato io ecco ok quindi non fate vi so visto la morte in faccia perché mi sembrava che ci fosse un pandora sbox qua dietro anche se c'era ormai buonanotte cosa fa si muove che cosa è oh un'armatura no dove l'hai buttata no dammi l'armatura niente neanche l'armatura riesco a dovere ah no ecco ecco dammi 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 metti metti ok vai mi difenderò con della redstone così ah no quello affare era il titolo della mappa cosa sta succedendo sento della lava che si solidifica boh oh sì via la lava via la lava meno lag uh armatura piccone house sì i like speriamo che non mi si sto laggando come non so che cosa dammi un piccone ehi una recetta e una pala la pala la userò per raccogliere la neve e usarla come proiettile se per caso dovesse difendermi da qualche malandrino ma quello è un tappeto ah no è la lana quella che c'era per evidenziare la roba ok perfetto così ho un po' di neve da lanciare se qualcuno fa il malandrino zio 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 no 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 adesso mi esplode il computer mi esplode il computer che fine ne ho sentito esplodere solo due fine doveste saltare tipo triliardi vediamo pecora sono incapace proprio sì l'ho preso dopo tipo dieci tentativi così zio 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 cosa succederà cosa succederà cosa succederà cosa succederà niente uuuu sì sì delle torce dei lapislazuli dei mattoni delle torce dei lapislazuli dei mattoni eeeh vabbè sì qua ce n'è altri ma tanto non 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 me ce ne facciamo particolarmente niente quanti ne mancano ancora bene non troppissimi sì sì no io voglio la zucca non c'è una zucca non c'è una zucca facciamo un po' così una carota una carota sì 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 carota dammi la carota dammi sta carota ok si era bugata ok si era bugata nell'acqua il gran dove no 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 sto fogando sto fogando sto fogando sali 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 un maiale sta male ok signor porco mister porco mi ha fatto uno scherzo ma 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 si vergogni ecco giù la testa vergognati ti do del tu sì perché mi hai fatto cadere là dentro pezzente lui me lo sento è fortunato mi darà la sono buffata non ha fatto niente oh lol che bello lo vuole aprire lei bah lo faccio io incapace no 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 ci sono che oh si è generato un attimo dopo grazie lag del computer no voi sapete che tutti i lucky block nei Pandora's box sono là dentro come li apro adesso Allora Vediamo come Che faccio qua ora Però aspettate Io ho delle torce vero? Ciao ragazzi Ciao mamma Ciao Diana Ci vediamo prossimamente Dov'è il muro? Cerca di stare bene Dov'è il muro? Dov'è il muro? Ciao 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 Sì sono affogato No è notte Torna dentro Torna dentro Rompi questo Non me ne frega niente ragazzi Devo settare tutto il giorno Altrimenti lo rimetto È come se non fosse successo niente No 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 bisogno di niente Il colletto ce l'ho già Ce l'ho già Ce l'ho già E non sono troppo preoccupato Per la fine del mondo Per ora Quindi Grazie Oddio ma ragazzi Avete visto che Caisere di roba è successo Cioè qua Qua Cioè si è Ha formato il ghiaccio dove c'era una squid Avete visto È morta ghiacciata una squid Povera Povera ciccia Che che Ma Adesso voi mi spiegate Come cavolo faccio A recuperare i miei Blocchi La dentro Volevo mettere la torcia Ma perché Forse le torce sul vetro Non le si possono mettere No quelle che sono sbagli Di ferro Potrei farmi una porta Ma non so se c'ho Del legno Non si vede Niente Ok Respira un po' Sto affogando di nuovo No non ha recuperato L'ossigeno Ok Non li vedo però I blocchetti qua Aspettate un attimo Options Video Ah Stupido Così Ecco Così si vede Finalmente Ma no Non ne vedo però Qua dentro Sto solo affogando a caso No Non mi fa Pizzare le torce sul vetro Stupido Minecraft Preferisco Maintest Maintest ti fa piazzare Delle torce sul vetro Perché uno non potrebbe Piazzare delle torce sul vetro C'è una mucca C'è una mucca Io sono morto tipo tre Certo Cercando dei blocchi Che non c'entrano Sì ma stavo cercando I blocchi che non ci sono Nemmeno qua dentro Non ci sono più Pandora's Box Qua dentro Quello è un clipper No Canna da zucchero Dov'è finita la mia strada Signore Pupazzo di neve Dov'è la mia strada Mi sento perso Nel cammino di nostra vita Sì ma qua è finita la mappa Cioè che cazzo Ma ce n'erano altri qua Di fisso Sì ma dentro non ce n'erano Scusa Sì che ce n'erano Li vedo Li vedo Aprilo Aprilo e scappa Magari toglie un po' di quell'acqua Oddio Quello è il Lord of Fire Beh stai affogando nell'acqua Quindi Credo che non ti servirà molto Non affoga Perché non affoga sto Sì Stai iniziando a affogare Perfetto Grazie acqua Questo giro mi sei stata molto utile Ciao Lord of Fire Ok sto laggando Da far schifo Rientriamo un attimo qua dentro Sì scusate ragazzi Ma il mio computer è quello che è Io ho cercato di fare la challenge Ce n'è Uh quanti ce n'è Ce n'è anche uno qua Apriamo l'ultimo Sì apriamo anche Quello Ho cercato di aprirne il più possibile Adesso mi esplode il computer di sicuro Non sta succedendo niente di rilevante Neanche l'acqua mi sta togliendo Cosa c'è qua dentro Dei semi Vedo Li ho perso tutti e tre Sì e non è successo No ce n'è uno qua Ok scappa Scappa Dove Che cazzo Boh Non so cosa sia successo Proprio no idea Per non saperne leggere Né scrivere Io apro quello Se lagga a bestia adesso Tra l'altro c'era l'acqua Chiudiamo qua però Che adesso Sta venendo un po' a noia No 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 Non ci stiamo capendo Non ci stiamo capendo Computer Ok Sì Sta bruciando Tutto Sì guarda che faccia terrorizzata Che a lui Sì sì L'ho fatto io Ma Non ti preoccupare Risolverò tutto Altra acqua Oddio ragazzi Sta frizzando Aspettiamo un attimo Che Signor creatore della mappa È quasi come nuova Quasi Due Due ne restano Ha finito Sto facendo ancora qualcosa Posso? Che dice Signor pupazzo Posso? Signor pupazzo Quale è un Sacca di inchiostro Si è fatto addosso Che schifo Pupazzo Stone Ma non riempiezza l'acqua Vabbè No avete visto Che c'era sotto C'è Che Ok Questa sta ancora Sparando stone In giro E L'ultimo Aspetta Prima che mi esploda Tutto qua in giro Cosa c'è scritto È finita la challenge Domina un amico Se stai facendo un video Da 1 a 5 youtuber Completi per essere arrivato Fino a qui Intanto se hai il coraggio Cerca di fare di meglio Sì magari ci proverò A fare di meglio Ma non so chi nominare Adesso vediamo cosa succede Sì No 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 Io me ne vado No No Sono entrato dentro Il coso di vetro Dove 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 Sono vivo Sono vivo Non sono morto un'altra volta Sono vivo Cosa avevo detto prima Così mi esploda tutto Tutto effettivamente Cos'è successo È esploso tutto È esploso tutto È esploso tutto Cioè ragazzi Questa era la mappa Scusate Vediamo un attimo No com'è che era Game mode 0 Non mi ricordo Non mi ricordo mai se è 0 Se è 1 Se trovassi un blocco su cui appoggiarmi No forse era 1 Game mode 1 Ok Ragazzi Guardate Cosa Kaiser è successo Oh la bandina Delettata Non l'avevo vista Se vedete Il creatore Italiano Cioè Ma Delle Cosa sono questi? Dei blocchi di vetro Mezz'aria È vetro questo? Sì Ok Perfetto Oh me ne vado via Ciao a tutti ragazzi Vi invito a lasciare un mi piace Se per caso l'episodio vi fosse piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo episodio In giornale Vi invito anche a iscrivervi A lasciare un commento Dove? Ok Perfetto meglio come ne vada Yeee Addio a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti